D'accordo che la trasferta di Verona non era la più indicata per invertire il corso degli eventi, ma il Cesena ha fatto poco o nulla per schivare l'ennesimo K.O. fuori casa. Bianconeri che non sono mai entrati in partita al Bentegodi, prima graziati sull'occasione sprecata da Boldor a due passi da Agliardi e poi trafitti al ventesimo con Bessa che trova in perfetta coordinazione il destro dell'1-0. Passano appena otto minuti e sono già titoli di coda. Controfuga dei gialloblu, Siligardi mette al centro, Agliardi smanaccia, arriva Pazzini e dice 16 centri in campionato. La reazione del Cesena non c'è, se si esclude il mancino di controbalzo di Ciano che non preoccupa Nicolas, anzi al sessantesimo arriva anche la mazzata del 3-0. Angolo di Romulo e incornata vincente di Boldor nel nulla cosmico della difesa del Cesena. Nel finale è Agliardi ad evitare il 4-0 salvando su Romulo lanciato a rete, per un Cesena che dovrà necessariamente cambiare faccia nel 2017. La prima dell'anno nuovo sarà proprio in trasferta in casa del Perugia.